Musica Non basta la presenza dell'esercito e a nulla vale il controllo militare del territorio nel rione Sanità di Napoli dove si continua a sparare. Questa notte Vincenzo Lausi, 34 anni, pregiudicato, è stato ferito alle gambe con colpi di pistola. L'episodio, a poche ore dall'agguato nel quale è ridotto in fin di vita Vittorio Vastarello, 43 anni, pregiudicato, clinicamente morto, avvenuto all'interno di un bar in Piazza Sanità. Luisi era entrato per un caffè nel locale, è stato raggiunto da una persona incappucciata che gli ha sparato contro diversi colpi di pistola, ferendolo alle gambe ed è poi fuggito. Nell'esercizio commerciale vi erano solo il titolare e un dipendente. Ma tornando a Vastarello, che i medici dichiarano clinicamente morto, è ritenuto dagli investigatori legato al clan Vastarello. Il raid è avvenuto in Via San Vincenzo. I killer, entrati in azione verosimilmente in sede a uno scooter, hanno sparato almeno tre volte. Sul luogo dell'agguato la polizia scientifica ha trovato tre bossoli calibro 9x21. Qualche ora dopo è stato trovato anche uno scooter, forse quello utilizzato dal commando, per recarsi in Via San Vincenzo, su cui sono in corso accertamenti. La vittima è stata raggiunta alla gamba da un proiettile che ha reciso l'arteria femorale. L'uomo ha perso molto sangue ed è giunto nell'ospedale già in condizioni critiche. È andato più volte in arresto cardiaco. Vittorio Vastarello è il fratello di Giuseppe, ucciso insieme col cognato Salvatore Vigna, in un agguato avvenuto in Vico Fontanelle la sera dello scorso 22 aprile, nel circolo privato dell'Associazione Maria Santissima dell'Arco, nel Rione Sanità. In quel ride, che aveva come obiettivo il boss Pietro Vastarella, vennero ferite anche tre persone, tutte ritenute legate allo stesso clan, Dario e Antonio Vastarella, rispettivamente 33 e 24 anni, e Alfredo Ciotola, 22 anni. E attraccata questa mattina al porto di Salerno, la nave militare spagnola Reina Sofia, con a bordo 1.048 migranti, tra i quali anche il cadavere di un uomo recuperato in mare. Il prefetto Salvatore Malfi ha spiegato che bisogna essere solidali, con chi è in difficoltà, ma è necessario pensare anche alla sicurezza dei nostri territori. A parere del comandante della Capitaneria di Porto, Gaetano Angora, con le condizioni meteo marine e clementi, gli sbarchi si intensificano durante l'estate. In questo momento vi ha una saturazione di tutti i porti siciliani, calabresi e pugliesi. Fa sapere il segretario della CGL di Salerno, Anselmo Botte, sembra che 500 migranti rimarranno sul territorio salernitano. Ancora nessuna notizia sull'eventuale presenza di scafisti a bordo. I controlli, spiega il questore Pasquale Rico, ci sono sempre, il livello di attenzione non è mai calato, siamo prudenti e attenti e valuteremo ogni persona che sbarca. Ma ascoltiamolo. Non so se ci sono scafisti a bordo, non tocca a me fare queste indagini. C'è la squadra mobile, il reparto operativo dei carabinieri e l'autorità giudiziaria che ovviamente valuterà tutte le posizioni che saranno forse sospette. Ma al momento non posso dire alcun che. I controlli ci sono sempre, il livello di attenzione non è mai calato, noi siamo in linea con le direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, anche in questa zona nel porto voi sapete che il livello è salito al livello 2 e quindi noi manterremo sempre alta la guardia perché ovviamente siamo prudenti e attenti, soprattutto anche in costanza degli sbarchi. Certamente lavoriamo con prudenza, guarderemo ogni soggetto che sbarca e quindi di cui avremo poi contezza circa l'identità. È uno dei pochi supervulcani esistenti al mondo. 40.000 anni fa la sua esplosione, la più grande che l'Europa abbia mai affrontato negli ultimi 200.000 anni, provocò cambiamenti ingenti. Oggi i campi flegrei sono al centro di una nuova attività sismica, ciclica, conosciuta con il nome di bradisismo. Circa 45 scosse lunedì scorso, la più importante di magnitudo 1.7. Proprio alla fine di agosto la notizia sulla Gazzetta Ufficiale circa le disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico. Zona rossa nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto Giuliano, Marano e la zona ovest di Napoli. La situazione delle vie di fuga ad oggi presenta numerose problematiche. Via Sartania è ancora chiusa al transito, mentre via Campania, tra gli snodi fondamentali, non presenta certamente le caratteristiche per una via di fuga. Inoltre tra i cittadini vige una scarsa conoscenza sul da farsi. Non lo so, guarda, io a livello di piano di vacazione non mai sento parlare, mai ho visto niente cose, perciò ne so zero. No, no, non so niente. È un po' complicato, visto che sono anche lavati in corso, questi semafodi che bloccano la circolazione. Eh sì, ognuno di lui può postare la macchina. Se nessun piccolo elicottero sarebbe una via di fuga ottima. È avvilente. Cosa dire? Purtroppo siamo al sud, siamo a Napoli, quindi c'è poco da fare. Speriamo nel buon Dio che non succedano niente di terremoti, perché se no facciamo la morte di topi. Il piano è annunciato per il prossimo anno e da più parti politiche si chiede al più presto l'inizio delle prove di evacuazione. Sul tema è intervenuto il consigliere comunale di Napoli, Marco Nonno. Sì, è una via di fuga prevista dal piano di evacuazione della protezione civile da circa 30 anni. Questa strada doveva essere finita già dieci anni fa, non è stata ancora consegnata. È quasi ultimata, abbiamo superato l'80% dei lavori. Stamattina presenterò al sindaco un question time per sapere come mai questa strada così importante per la sicurezza civile, per la protezione civile e per le vie di fuga non è stata ancora resa fruibile ai cittadini. Circa la situazione a Pozzuoli ha parlato il consigliere comunale Luigi Manzoni. Allora, noi siamo in attesa di ricevere l'iniguida da parte della Regione Campania su indicazione del Dipartimento di Protezione Civile riguardo praticamente le vie di esodo per eventuali catastrofe che porteranno pericolosità alla collettività. Nel frattempo però noi come amministrazione già stiamo facendo gli studi preliminari per anticipare il lavoro quando arriveranno le linee guida per essere pronti poi per subito a procedere alla redazione del piano delle vie di esodo. L'unica cosa che ci ha detto la Regione ci ha indicato, ci ha intimato sempre con collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile perché lei che emana praticamente i principi generali è quello di individuare delle aree di sosto. Sicuramente lo stato delle nostre arterie principali è ottimo non prenderemo in considerazione strade alternative o poco utilizzate o non addirittura da costruire. Si preannunciano altre proteste a breve in Via del Riposo zona ridosso del cimitero di Napoli dove il Comune ha deciso lo scorso 12 agosto di realizzare un altro Campo Rom. Si tratta di un ritorno per i nomadi costretti a evacuare in tutta fretta quell'area nel mese di marzo del 2014 dopo che a seguito delle continue lamentele dei residenti si verificò un incendio doloso che distrusse la Baraccopoli. L'area per ora è deserta ma è bastata la notizia della firma della delibera comunale di metà agosto per scatenare di nuovo la rabbia da parte di cittadini che hanno lasciato scritte eloquenti contro il sindaco e l'amministrazione comunale sulle pareti perimetrali della zona. Non sarà realizzato con i canni del vecchio spiega l'assessore al welfare Roberta Gaeta. La nostra intenzione sicuramente non è quella di realizzare un altro Campo Rom ma di attrezzare un'area per contrastare il degrado contro il quale anche i cittadini giustamente si oppongono. Quindi è l'idea invece di governare e gestire una situazione che è già molto complicata quindi di renderla più gestibile affrontabile e anche controllata. Io credo che sia necessario capire che molte delle cose che purtroppo accadono sono opera non soltanto de Roma. Quell'area in particolare per esempio era stata completamente liberata dai rifiuti e sicuramente non è stata occupata da altri rifiuti da parte dei Roma. Quindi è evidente che c'è un degrado che non deriva soltanto dalla presenza delle popolazioni Roma. Resta però il fatto che l'insediamento sarà portato a termine nonostante le proteste dei comitati civici e nei prossimi mesi i Rom alloggiati in via Brecce-Santerasmo dal marzo del 2014 ritorneranno nello spazio individuato dall'amministrazione comunale. È un'area attrezzata che sicuramente accoglierà delle famiglie famiglie che tra l'altro sono conosciute che accompagnano ormai da tempo i loro figli a scuola che sono conosciute dai servizi sociali quindi famiglie che hanno tutta l'idea e la volontà di collaborare e aderire in qualche maniera ad un progetto di vita diverso da quello che invece viene conosciuto anche in maniera un po' generica a volte dalla popolazione cittadina. Noi stiamo parlando di persone e questo è da tenere ben presente quindi le persone non si possono cacciare così. Da questa mattina per altri tre giorni Piazza Dante a Napoli ospiterà il mercato europeo. 35 imprese provenienti da 16 paesi europei e da altre regioni italiane hanno allestito una fiera dove fino al 4 settembre venderanno i propri prodotti tipici dell'enogastronomia e dell'artigianato. E' la prima volta che il più grande mercato itinerante dell'Unione Europea si trasferisce al Sud Italia ha spiegato Adriano Ciolli coordinatore nazionale dell'AMBA durante la presentazione dell'evento che si è svolta questa mattina nella sala giunta del Comune di Napoli. Il punto di forza del mercato europeo è fare sì che i prodotti che provengono da diversi paesi europei siano venduti non in un supermercato non in un negozio tradizionale che è sempre bene e va bene comunque ma da operatori provenienti dai paesi di origine dei prodotti cioè i biscotti della Bretagna vengono venduti dai francesi i prodotti dell'artigianato finlandese da un finlandese. Intervenuti alla presentazione l'assessore alle attività produttive del Comune Enrico Panini è il presidente di confedercenti Napoli e Campania Vincenzo Schiavo che hanno sottolineato entrambi come la Kermess potrà avere benefici anche sull'economia del territorio. Continuiamo su quest'onda qualificando sempre di più la nostra offerta nel senso che parliamo della prima iniziativa che fa del mercato davvero una dimensione europea sceglie come sede una delle città più europee del mondo Napoli sceglie di mettere a confronto e di stimolare prodotti enogastronomici di diverse tradizioni di diversi paesi Ivi compreso il nostro paese che è la sede che ospita l'evento insomma il confronto fra tradizioni e cambiamento perché poi quando ci si confronta nasce sempre qualche cosa di nuovo davvero una grande iniziativa siamo felicissimi di ospitarla Oggi questi mercati sono indotti economici e attraggono anche tanto i turisti di operatori sul nostro territorio qui nella provincia di Napoli abbiamo 6.333 che fanno il loro business tutti i giorni che producono sul nostro territorio 772 milioni di euro di fatturato quindi tutto questo è importante e che oggi avere la comunità europea che finanzia e sostiene questo tipo di opportunità è qualcosa che dà assolutamente al nostro territorio una maggiore opportunità una maggiore finestra aperta sull'Europa perché questa pubblicità porterà sicuramente tanti altri turisti sono i giovani a far promuovere a pieni voti il mercato del Napoli il giorno dopo la chiusura dei trasferimenti estivi la maggioranza dei tifosi ha dato ottimi voti alla campagna acquisti azzurra nonostante la cessione di Guain e la mancanza di un nome di spicco da 0 a 10 che voto dà il mercato del Napoli e perché? 7 e mezzo beh forse sembriva un attaccante in più 8 al mercato 4 dell'Aurentis perché? perché non ama Napoli 7 perché secondo me manca una punta ci avrebbe desiderato ma vabbè Cavani era il sogno però avrei preso anche Kalinic 9 che il nostro presidente è un grande presidente io lo stimo e lo rispetto anzi Presidente abbiamo l'onore di conoscerci ci stringiamo anche la mano io sono 10 anni che sto davanti al televisore o il martedì o il mercoledì o il giovedì quindi un 9 a lei glielo do volentieri penso 5 5 perché alcuni acquisti sono stati fatti con razionalità con impegno mentre altri un po' di meno un po' di meno non si doveva vendere Guain purtroppo è stato fatto questo sbaglio e ora siamo con attacco un po' in difficoltà 9 perché ha coperto tutti i ruoli che bisognava coprire soprattutto non rimanendo con la tasca vuota spendendo tutti i soldi che ha avuto per Cavani e investendo nel futuro prendendo soprattutto i giovani questo è il vero imprenditore complimenti a De Laurentiis da 0 a 10 per me il mio voto è 8 perché è sempre un voto positivo anche senza i guai 6 e mezzo perché secondo me ci manca sempre la punta all'attacco a Napoli siamo completi da centrocampo ad andare indietro ma la punta ci manca secondo me ci manca quello che fa il gol quest'anno 7 secondo me che si poteva fare di più sicuramente 8 e mezzo un palazzo un palazzo come si deve si deve vedere dalle fondamente è quello che ci mancano le fondamente a Grazie a tutti.